ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi farò conoscere un incisore laser interessantissimo un incisore economico che riesce a lavorare davvero molto bene allora questo è il tts 55 della più triste con un'area di incisione di 30 cm per 30 cm una perfetta via di mezzo fra quegli incisori piccoli magari da 20 per 20 che non ci permettono di lavorare su superfici grandi e quelli molto grandi da 40 per 40 che obiettivamente occupano molto spazio questo è semplice costa poco ma ragazzi riesce a fare davvero di tutto prima di provarlo temevo fosse il classico incisore laser economico che incideva semplicemente qualche scritta tagli su spessori limitati 3 mm e invece ho fatto 3 mm senza problemi sono riuscito a tagliare 5 mm senza problemi ho provato su 10 mm e li ha tagliati senza problemi sono riusciti ad ottenere delle ottime incisioni con una precisione che adesso vedrete ed è molto elevata costa poco in offerta adesso sul sito ufficiale 226 euro vi lascerò ovviamente anche altri link cercherò sul web vedrò se riesco a ottenere dei codici di sconto per farmi risparmiare il più possibile ma anche 226 euro per un laser che riesce a fare tutto quello che riuscirete a vedere secondo me ne vale assolutamente la pena però sto cambiando pochettino metodo di recensione degli disori laser anziché fare tutte quelle prove farò tutto su un unico pezzo ovviamente per quanto riguarda gli spessori differenti cambierò pezzo ma sono riuscito anche a togliere la ruggine da un pezzo di metallo una chiave inglese arrugginita e con il laser siamo riusciti a pulirla per bene ho inciso anche sull'alluminio insomma ragazzi un incisore laser valido che costa poco e che secondo me comprerete in tantissimi quindi mettiamolo sul bancone davvero e guardiamo come è fatto iniziamo ed ecco il nostro piccolo ma grande incisore laser sul bancone allora sulla parte frontale troviamo il controller sulla parte superiore ci sono i vari ingressi quindi l'ingresso per l'alimentatore la connessione usb è un ingresso per la memory card più il tasto ovviamente di accensione e spegnimento sulla sinistra un supporto stampato in 3d troviamo anche un cilindro che ci consente di mettere a fuoco infatti si tratta di un laser con modulo a fuoco fisso quindi basterà mantenere la distanza di questo cilindro dalla superficie da incidere per avere la messa a fuoco corretta sulla struttura abbiamo anche delle incisioni con dei riferimenti con centimetri trovate scritto in realtà 44 cm ma questa è solo la lunghezza dei profili poi in realtà l'area utile dato che c'è la sporgenza del modulo insomma altri ingombri all'interno avremo 30 cm come aria per l'incisione ma è la stessa cosa anche per gli incisori più grandi quando dichiarano 40 cm in realtà la struttura occupa molto più spazio come potete vedere risulta pulita ed ordinata abbiamo un cablaggio all'interno di questi tubi tutto perfettamente ordinato e le cinghie non sono in vista infatti scorre il tutto tramite queste ruote azionato da dei motori che devo dire obiettivamente sono pure molto silenziosi la tensione della cinghia va regolata da queste viti il montaggio è semplicissimo ragazzi non vi faccio vedere tutto la video del montaggio perché richiede tempo obiettivamente però risulta davvero molto semplice con quattro viti si uniscono i quattro profili dopodiché si avvitano questi piedini si stringono un altro paio di viti e il gioco è fatto l'unica parte che richiede un pochettino più di attenzione è il montaggio di quest'asse dato che qua c'è il tensionatore per regolare appunto la tensione della cinghia va smontato va fatta passare la cinghia al suo interno e poi va montata ma adesso dedichiamoci al modulo laser allora abbiamo detto che da 5,5 watt a fuoco fisso il suo punto di messa a fuoco è da 0,8 taglia e taglia molto bene sulla parte bassa troviamo delle feritoie da cui esce l'aria e quindi viene convogliata poi al centro simulando l'air assist lateralmente troviamo anche questa rotellina una volta decisa all'altezza di messa a fuoco sarà necessario stringerla per mantenerlo ben saldo ed evitare anche i micromovimenti troviamo anche questo pezzo in plexiglass che protegge tutta l'elettronica sono presenti anche dei led che ci fanno vedere sia quando il laser è acceso che quando è in funzione e la sua intensità luminosa varierà in base alla potenza emessa dall'incisore laser i collegamenti sono tutti con i classici spinotti questo per esempio a tre pin si infila si incastra ed il gioco è fatto lo stesso per quanto riguarda il collegamento per i motori ma quello che a noi interessa è il suo funzionamento e qua al centro troviamo le varie prove che ho voluto fare quelle utili a capire quanto funzioni bene quindi guardiamo subito il time lapse della realizzazione di queste prove dopodiché ve le descriverò ho utilizzato light bar per progettare questo file e ho realizzato quindi dei tagli delle incisioni con delle immagini con potenze differenti ci sono anche delle prove per quanto riguarda le potenze e di riempimenti lo stesso per le scritte un logo e oltre alla prova dei tagli con misure differenti su queste forme circolari ho voluto fare anche una prova su una scritta molto piccola con dei dettagli davvero ridotti per vedere come si comportasse solo che in fase di progettazione del file ho sbagliato avevo impostato per passaggi quindi poi l'ho rifatta con un solo passaggio e allora passiamo subito ad esaminare i risultati come vedete ho scritto 200 mm al minuto quindi questi tagli sono stati realizzati tutti a questa velocità e l'unica differenza sono il numero di passaggi e la potenza impostata quindi a 200 mm al minuto 60 per cento di potenza con un passaggio non sono riuscito a tagliare ma con due e tre passaggi ho ottenuto il risultato che mi ha lasciato senza parole ragazzi stiamo parlando del 60 per cento di potenza ovviamente stesso risultato ottenuto con 70 80 e 90 per cento quel quanto riguarda il 100 per cento non avevo dubbi anche con un solo passaggio riuscito a tagliare tre millimetri di netto questi sono gli scarsi di lavorazione quindi i piccoli cerchietti che sono riuscito ad ottenere lo stesso per quanto riguarda le scritte guardate che precisione questa invece è una prova dell'incisione di una foto che già avevo fatto vedere solo che avevo fatto la prova sulle mdf in quel caso la precisione la qualità dell'incisione è molto più elevata rispetto al compensato che ha una superficie diversa quindi dettagli molto piccoli non si vedono benissimo allora questa è la prova a 3.500 mm al minuto a 90 per cento di potenza poi ho cambiato il rapporto tra potenza e velocità come vedete riducendo la velocità da 3.500 mm al minuto a 2.300 mm al minuto con il 70 per cento di potenza ottenuto un risultato migliore poi dipende anche dal tipo di impostazione che date se volete una scala di grigi un puntinato eccetera il risultato comunque già così è più che sufficiente queste sono le prove di taglio guardate proviamo a mettere per bene a fuoco allora guardate questa è una scritta davvero piccolissima considerate che questi cerchietti sono da un centimetro e mezzo guardate che piccola ma questa comunque è fatta con tre passaggi e questa con un solo passaggio anche per questa sono riuscito ad ottenere dettagli nettissimi guardate la o della scritta taglio un'incisione è un taglio netti con molta molta precisione mi è piaciuto davvero tantissimo questo è un solo passaggio 200 mm al minuto al cento per cento di potenza questa è l'incisione del mio logo anche questo venuto benissimo impostato a 1500 mm al minuto di velocità e 40 per cento di potenza e queste delle prove su delle scritte come vedete in questo caso anche un 60 per cento al 70 per cento a 1500 mm al minuto già abbiamo degli ottimi risultati 40 per cento un po più scarso però comunque potrebbe andare dipende sempre dai gusti e da ciò che vogliamo ottenere e queste sono delle prove invece di riempimento guardate 3000 mm al minuto quindi una macchina impostata comunque ad una velocità relativamente elevata può arrivare fino a 8000 mm al minuto e con una potenza del 20 per cento già abbiamo un buon riempimento ma 30 40 per cento già sono più che sufficienti ma se vogliamo riempire per bene col 60 per cento di potenza otteniamo un bel nero ma queste sono delle semplici prove su un compensato da 3 mm questi invece sono dei tagli eseguiti su un pezzo da 5 mm facendo una prova al 90 per cento con un solo passaggio non sono riuscito a tagliare 5 mm e neanche al 100 per cento ma già con due passaggi sono riuscito a ottenere un bel cerchietto tagliato per bene sia al 90 per cento che e ovviamente al cento per cento senza nessun problema si sono staccati in un attimo e anche di questo vi farò vedere alcune inquadrature dettagliate si vede perfettamente come i vari passaggi del laser man mano vanno scavando sul legno e come effettivamente si tagli senza problemi tutto ciò grazie alla lunghezza focale di questo modulo laser che permette di attraversare quindi spessori anche non ridotti e poi sono passato al pezzo da 10 mm come potete vedere a 350 mm al minuto e al 90 per cento di potenza con 10 passaggi sono riuscito a tagliarlo molto bene e devo dire anche in questo caso con poche bruciature effettivamente per avere fatto 10 passate ragazzi sembra molto pulito avevo anche provato con 5 passata al 100 per cento con 200 mm al minuto quindi una velocità bassa ma non sono riuscito a ottenere un buon risultato lo stesso per quanto riguarda il 70 per cento di potenza ma con 8 passaggi e quest'ultima prova prima di riuscire a ottenere il taglio l'avevo fatto all'80 per cento sempre 350 mm al minuto con 13 passate in questo caso è mancato poco però come vedete aumentando del 10 per cento quindi al 90 per cento riducendo i passaggi questo è il risultato davvero eccezionale allora ragazzi interisco queste riprese che sono state fatte dopo queste riprese che avete appena visto e quindi se le troverete nel montaggio allora volevo farvi vedere anche la parte opposta di questo pezzo con le prove con un solo passaggio all'80 e al 90 per cento in questo caso era quasi riuscito ad eseguire il taglio mancava pochissimo non ho provato a forzare perché non era il caso mi piace farvi vedere effettivamente quando il taglio si stacca quasi automaticamente guardate questi sono invece i tagli realizzati nella scritta ragazzi una scritta piccolissima con dei tagli eseguiti molto bene stiamo parlando veramente di mezzo millimetro eppure è riuscito a tagliarla molto bene e allora questo è quello da 5 mm da questa parte si vede bene anche il risultato che abbiamo ottenuto e l'assenza di bruciature e ora vi faccio vedere anche gli altri pezzi quindi questo di qua si vede da questa parte che non ci sono bruciature facendo la prova a 200 mm al 100 per cento con cinque passaggi eravamo quasi riusciti a passare dalla parte opposta lo stesso per quanto riguarda l'80 per cento con 13 passaggi a 350 mm però effettivamente se riusciamo a ottenere un buon risultato facendo 10 passaggi al 90 per cento davvero soddisfacente come vedete bastava davvero poco e si sarebbe staccato del tutto ok adesso ci siamo dopodiché ragazzi guardate questa è una chiave inglese che è stata all'esterno a prendere ruggire per tanti anni guardate come ridotta sono riuscito con un solo passaggio al cento per cento con una velocità di 4000 mm al minuto a rimuovere quasi tutta la ruggire guardate che differenza io avevo visto qualcosa sul web ma pensavo si trattasse di altre tipologie di incisori laser e invece sono riuscito a rimuovere la ruggine e sono rimasto sbalordito dal risultato guardate ragazzi si è rimosso del tutto ovviamente poi l'asportazione meccanica con una spazzola spazzola per tessuti l'ho pulito leggermente e si è rimossa tutta la ruggire al cento per cento perché ovviamente la rimuove nel senso che la distacca però non la asporta poi l'asportazione manuale va fatta ma semplicemente con un tovagliolo o anche una spazzolina con setola in nylon si rimuove il tutto semplicemente con un passaggio guardate davvero incredibile mi ha fatto la prova anche su una pinza e in quel caso non sono riuscito a rimuoverla bene come questa quindi devo approfondire un pochettino questo argomento della ruggine comunque avete visto che è riuscita a toglierla ed era una ruggine un po ostinata è una ruggine vecchia che qui da tantissimi anni questo invece è il risultato che sono riuscito ad ottenere sull'alluminio ho inciso il mio logo anche in questo caso una precisione elevatissima allora ok ora sono riuscito a mettere a fuoco allora ragazzi guardate che bel risultato un incisione che mi piace tantissimo molto dettagliata per me è un risultato davvero interessante all'interno della confezione troviamo comunque anche una pendrive con una micro sd e all'interno ci sono anche dei file per fare i primi test e le prime incisioni vengono date in dotazione anche questi occhiali protettivi non so fino a che punto io vi consiglio di acquisire degli occhiali di buona qualità ragazzi con gli occhi non si scherza ed ovviamente immancabile anche il manuale di istruzioni ma scritto solo in inglese anche se intuitivo perché ricco di immagini quindi il montaggio vi verrà molto facile e veloce e allora ragazzi avreste mai pensato di riuscire a rimuovere la ruggine da una chiave inglese con un incisore laser bene sì si può fare poi dipende anche dal forse dal tipo di materiale come ho detto poco fa e da quanta ruggine c'è ma in questo caso sicuramente non è poca ed è riuscito a rimuoverla con un solo passaggio in tre minuti e mezzo ho rinnovato una chiave ottimo risultato ottenuto anche su questo pezzo pezzo ma ragazzi un modulo laser che riesce a tagliare fino a 10 mm che riesce a darci di una precisione elevatissima sia sul metallo sul legno insomma su tutti quei supporti quelle superfici che si possono incidere e tagliare sono sicuro che tutti quelli che mi hanno chiesto finora di fare una recensione sul modulo laser che funzionasse bene e che non costasse tantissimo adesso siano contenti perché questo incisore laser funziona bene non costa tanto e ci dà degli ottimi risultati vi ricordo che vi lascio il link giù nel primo commento e nella descrizione per vedere i vari link quindi poterlo acquistare con codici di sconto insomma quello che riesco a trovare sul web vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale mettere mi piace a questo video cliccare sulla campanella faccio per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti le prossime caricamenti ciao da riccardo ea presto